Musica Buonasera telespettatori e benvenuti a Bassano Tg. Come ogni domenica rivediamo insieme i fatti più importanti della settimana. L'IVA porta la riduzione ancora dei consumi interni perché va a colpire il ceto medio, quindi va a colpire le famiglie, va a colpire il disuopato, va a colpire la cassa integrata. Oltretutto c'è il rischio anche dell'aumento del carburante, quindi con le accise andiamo ancora a rallentare di più quello che è il nostro motore. Aumentare le tasse non significa automaticamente fare cassa, a volte significa uccidere l'economia. I rappresentanti delle categorie produttive lo stanno ripetendo in tutte le lingue da mesi. E invece, passato il lunedì nero con 49 scadenze fiscali da rispettare, ecco il martedì nero con il rincaro dell'IVA movimentato dai contraccolpi che da domani potrebbero essere provocati da una crisi di governo. L'aumento dell'IVA è un salto nel buio. Il rincaro dei prezzi potrebbe causare una tale flessione dei consumi da risultare inutile a rimpastare i conti pubblici e fatale per la sopravvivenza delle imprese. Questo gioco inutile della politica sta portando alla distruzione del nostro paese e soprattutto anche a rischio grosso economico per i nostri risparmi. La pressione fiscale è una delle poche cose in crescita in Italia. Nelle classifiche delle tasse il nostro paese sale continuamente di posizione in classifica. Invece, come ha detto Luca Maria Kenneth, presidente della Confcommercio di Bassano, in Francia hanno avuto il coraggio di abbassare proprio l'IVA. La politica non sta facendo niente. Se io penso che noi avevamo previsto un pille in negativo di 1,3, oggi da gennaio a ottobre siamo a un punto virgola otto e abbiamo aumentato il debito pubblico di 15 milioni di euro. Quando si dice volere è potere, l'amministrazione comunale di San Donà di Piave fa lezione a quella di Bassano. Già, perché il comune del Veneziano, che conta 42 mila abitanti, poco meno che la città degli Alpini, si è vista sopprimere il tribunale così come è accaduto agli uffici di via Marinali. Disagio a San Donà, tanto quanto a Bassano. A risentirne, come abbiamo documentato e riportato in più occasioni nei nostri TG, sono soprattutto le fasce più deboli, genitori e tutori di disabili e anziani costretti a trasferirsi nel capoluogo di provincia con disagi e costi che ben si conoscono. È di questi giorni la richiesta a gran voce dell'apertura a Bassano di uno sportello cui possano rivolgersi gli amministratori di sostegno. Uno sportello che pare un miraggio per i 1.500 bassanesi che andrebbero a usufruirne. A Bassano pare un miraggio perché a San Donà lo stesso sportello viene attivato la settimana prossima grazie all'interessamento e alla pressione del sindaco Andrea Cereser. Nel corso dell'estate abbiamo aperto un confronto con il tribunale di Venezia e si è arrivati a questa soluzione per cui per la consegna di questi atti legati alle tutele ma anche altre tipologie di atti. È previsto un recapito presso San Donà. Non avete aspettato voi il 13 settembre? No, ci siamo mossi per tempo anche per cercare di evitare la discontinuità del servizio. Non dimentichiamo che si tratta di centinaia di persone che svolgono questa attività in regime di volontariato e se dovessero accollarsi anche l'onere della spesa più la perdita di tempo per andare a Venezia probabilmente alcuni di questi rinuncierebbero. Dunque l'intervento tempestivo, perché la notizia della chiusura del tribunale non è cosa dell'ultimo minuto, dell'amministrazione comunale di San Donà che si è rivolta al presidente del tribunale di Venezia ha premesso di soddisfare una richiesta pressante dei cittadini che significa amministrazione a servizio dei cittadini. Siamo stati penalizzati fortemente con la chiusura della sede di staccata laddove possiamo portare a casa qualche risultato a vantaggio dei cittadini è chiaro che è bene muoversi subito e in questo caso sembra che la storia possa finire a vantaggio delle persone. A buon intenditore, poche parole. Siamo arrivati in un momento, in un punto in cui è necessario uno shock fiscale l'IVA va portata al 15%, lo ribadisco, mi ne prendo anche tutte le responsabilità mi farebbe piacere però che questa responsabilità se la prendessero anche le categorie politiche che in questo momento stanno sicuramente guardando alto perché hanno altre preoccupazioni. Altro che aumento al 22%, per rimettere in piedi il paese l'IVA dovrebbe essere abbassata di 7 punti perché meno tasse significa più consumi ma anche paradossalmente più introiti per le casse statali. Alla Confcommercio ne sono certi ricordando come l'aumento dell'IVA dal 20 al 21% provocò una flessione del gettito di quasi il 2%. Ma allora perché il governo avrebbe compiuto una scelta così miope? Credo siano delle direttive che arrivano da Bruxelles, Bruxelles ha deciso di andare verso quella direzione però mi rendo conto che forse non hanno capito. Francia qualche anno fa ha abbassato l'IVA di 3 punti se non l'ho derrato e è stata messa sotto osservazione perché ha fatto questa operazione. Le casse dello Stato, sostiene Kenneth, non si mettono a posto aumentando la pressione fiscale ma tagliando la voce di spesa più consistente, gli sprechi. In Italia in questo momento stanno andando benissimo una fabbrica dello Stato che è quella dello spreco. Stanno andando con aumenti di incremento di fatturato a due cifre ma importanti. Io in questo momento sto facendo fatica a trovare fresatori a CNC e progettisti. È un controsenso, però è un controsenso di un'Italia dove ci sono praticamente due velocità. Le imprese ad alto contenuto tecnologico che vanno e le aziende invece a basso contenuto che stanno morendo. Ecco, in questo momento fortunatamente chi esporta ed ha un valore tecnologico elevato riesce ancora a farcela. Le aziende che non richiedono particolari professionalità sono in crisi economica. Quelle ad alta professionalità sono invece in difficoltà perché non trovano personale. Che in un periodo di crescita della disoccupazione le fabbriche non riescano ad assumere appare un controsenso. Ma per Sandro Venzo, imprenditore della metalmeccanica e presidente di Confartigianato Bassano la spiegazione in una serie di scelte che non hanno tenuto conto delle richieste del mercato del lavoro. Negli anni abbiamo abituato, e quindi qua parlo della generazione prima della mia, che ha sempre saputo lavorare e ha sempre saputo dire ai figli vai a studiare più che puoi, cos'è almeno che laurei. In questo momento siamo pieni laureati e non abbiamo persone specializzate a fare praticamente tutti quei lavori altamente tecnologici nel manifatturiero che ancora esistono. Tutti a liceo e poi all'università, in facoltà che sfornano migliaia di laureati all'anno che per forza di cose incontreranno difficoltà lavorative e magari si trascurano istituti professionali che invece sarebbero in grado di preparare già ad un mestiere per il quale c'è richiesta. Ma da cambiare c'è anche un'altra mentalità, quella degli imprenditori che si ostinano a correre ognuno per conto proprio e dovrebbero invece imparare a vedere il proprio vicino non come un concorrente ma come un potenziale collaboratore. Dalla crisi secondo noi si esce facendo squadra, quindi si esce cercando di unire le forze di tutti quanti. L'esempio è quello che sta facendo il territorio del Bassanese che ha cercato e sta cercando e ci riuscirà di unire le categorie economiche perché siccome i problemi sono gli stessi cerchiamo almeno di fare massa critica e di fare squadra. Il copione potrebbe ripetersi via Trecase a Tezze sul Brenta potrebbe essere nuovamente teatro di insediamenti di industrie insalubri e monta la protesta dell'amministrazione comunale. Sì perché via Trecase è già balzata agli onori della cronaca negli anni per le vicende legate all'inquinamento da crome esavalente provocato dall'ex Tricom Galvanica PM e dalle lavorazioni dell'Orlandi. Ora a poca distanza si teme un nuovo caso con la possibilità di costruzione di un'azienda che si occupa di lavorazione di scarti ferrosi, tra l'altro in un'area già sottoposta dalla precedente amministrazione a vincolo con il divieto di insediamento di attività insalubri di prima classe. C'è di più perché la richiesta del proprietario dell'azienda di costruire due consigli comunali e due distinte amministrazioni forti del vincolo si sono opposte, negata qualsiasi variante urbanistica nel sito. Ma arriva il colpo di scena. La ditta si rivolge alla provincia e va in commissione via dove questa serie di illustri nominati della politica decidono di dare il consenso, quindi fanno loro la variante urbanistica per conto dei nomi del comune di Tezze. La commissione provinciale via calpesta dunque la volontà dei residenti di Tezze. Hanno fatto quel che hanno voluto in un'istruttoria molto molto leggera perché sinceramente non ho mai visto un'istruttoria fatta male così. A cosa serve? pianificare PRG, PAT, PTCP, amministrazioni che ci lavorano anni, soldi dei comuni, soldi spesi a vanvera, pianificazioni generali della regione. Poi arrivano dieci, non posso dire quello che mi stava venendo fuori adesso, e decidono loro per tutti noi. Ora il comune seguirà vie legali, un esposto in procura e un ricorso al TAR. Ora noi impugneremo al TAR richiedendo la sospensiva per bloccare, perché potrebbero domani mattina partire. Quindi dobbiamo chiedere la sospensiva al TAR. Io farò di tutto perché la ditta non si insedi. Poi qualcuno si prenderà la propria responsabilità, visto che sono già prese così sotto gamba. Sono da poco passate le dieci quando il rumore di una motosega è che già in Viale Scalabrini. Rete Veneta aveva già lanciato l'allarme da settimane. Dopo Viale 11 Febbraio, Viale Venezia e Via Pecori-Giraldi, rischia di scomparire un altro viale alberato di Bassano, uno dei pochi rimasti in città. Oggi in Viale Scalabrini è stato abbattuto il primo albero tra gli sguardi perplessi dei passanti. Non ho idea, francamente, di che tipo di progetto si venga a realizzare qua. Credo fosse una pista ciclabile, non sono corrente, francamente. Però dispiace, forse è una cosa più emotiva che altro, vedere che li buttano giù. Spero che non li buttino giù tutti. Questo sarebbe un peccato, insomma. Poi, per carità, ci si inchina alle esigenze della comunità o quel che l'è, però personalmente a me dispiace. Gli alberi che da decenni abbelliscono il Viale fanno oramai parte dell'arredamento urbano. Se da un lato è giusto sistemare marciapiedi e strade, dall'altro non è giusto che a rimetterci sia un polmone verde della città. Così hanno risposto in tanti durante le interviste raccolte le settimane scorse a Bassano. Tanti che si augurano che il taglio di questa mattina rimanga un fatto isolato. Tanti che si augurano che se l'amministrazione comunale avesse preso una decisione del genere, ci sia ancora tempo di ripensarci. Alberi abbattuti e tristi immagini di tronchi tagliati e segnalati da sterri ribirilli stradali. Uno scenario desolante è quello che incontriamo in via San Giorgio a Bassano, fatto di piante violate. Si cammina lungo questo viale incontrando monconi di ogni tipo. Qui il fusto è stato lasciato a 10 cm da terra. In quest'altro caso il taglio è stato fatto a mezzo metro. Più in là invece il tronco è rimasto fino all'altezza di due metri. Questa situazione si sta portando avanti dalla scorsa primavera quando l'amministrazione ha deciso di tagliare le piante di via San Giorgio. Hanno sostituito solamente la prima parte, mentre per questa seconda parte hanno tagliato tutte le piante a metà, creando anche un vero e proprio problema di sicurezza, perché vediamo tutti questi monconi, soprattutto adesso che le giornate si accorciano, rappresentano un ostacolo per chi cammina e passeggia. E oltretutto abbiamo i marciapiedi rotti, abbiamo tutte le piante nell'ultima parte della via che hanno subito anche queste delle potature, però tutto in maniera insensata, senza un fine logico. Una situazione evidentemente pericolosa per passanti e ciclisti. Certamente, penso solamente ai moltissimi ragazzini che percorrono questa via ogni giorno per andare a scuola, ma anche per andare a praticare attività sportiva e qualsiasi altra attività. Quello che noi chiediamo è un intervento immediato dell'amministrazione per mettere in sicurezza la via, anche tutto il percorso pedonale e per finire questa sostituzione delle alberature che attualmente vediamo tutto lasciato là, abbandonato. Questa non è una buona amministrazione, commenta Finco, via le Venezia, via le Pecori Giraldi, via le Scalabrini, via San Giorgio, quante piante dovranno essere ancora abbattute a Bassano? Io non è che sono contrario alla sostituzione delle piante se sono ammalate o se necessitano di interventi, però voglio dire che gli interventi devono essere fatti in maniera sensata e intelligente, non è possibile vedere queste cose perché oltre a un problema di sicurezza anche a livello visivo veramente rappresentano una cosa vergognosa. Ecco i risultati ed analisi dell'acqua effettuata da Etra nel comune di Vigo d'Arzare. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto. Da casa potete fare il confronto tra i dati riportati su queste tabelle e gli stessi che trovate sull'etichetta delle acque in bottiglia, ma vediamo i dati più significativi per attestare purezza e salubrità dell'acqua. Il pH, ovvero l'indicatore d'acidità, è 7,47, il residuo secco è pari a 256 mg per litro, colore e odore sono assenti, il calcio è 61,5 mg su litro, i floruri sono pari a 0,19 mg litro, il potassio è inferiore ai 5 mg litro, il magnesio si attesta sui 21,1 mg per litro, mentre il sodio è di 3,8 mg su litro. I dati sono stati forniti da Etra che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ULS su tutto il territorio di sua competenza. Anche gli studenti delle scuole del Bassanese coinvolti nel lutto per le centinaia di vittime del naufragio di ieri a Lampedusa, una vicenda che ha scosso l'Italia intera, tanto che oggi è stata proclamata giornata di lutto nazionale, bandiera mezzasta all'esterno di Palazzo Balbi, sere della giunta regionale Veneta, minuto di silenzio nelle nostre scuole, dove i ragazzi sono stati colpiti anche se a distanza dal dramma di Lampedusa, che poi è un dramma dell'epoca attuale, disperati che cercano una vita migliore nel nostro paese e che a pochissima distanza dall'arrivo a destinazione trovano la morte. Questa tragedia perché appunto 300 persone ha coinvolto veramente tutta l'Italia e pensiamo che sia stato molto importante e quindi chi se non le scuole sono state scelte per fare appunto questo minuto e per ricordarlo. Inoltre questo dovrebbe essere un allarme per farci capire che dovremmo occuparci di più di immigrazione, dovremmo riuscire ad integrare gli immigrati nella società e quindi dovrebbe essere importante che anche loro si sentano parte dell'Italia. Gli studenti dell'Irigem di Rosà sono riusciti a realizzare un messaggio diffuso in rete per dimostrare il proprio cordoglio e la propria sensibilità alla tragedia. Durante tutta la mattinata era stato il capo che aveva attirato l'attenzione dei visitatori e puntualmente Gigio, Toro di Maser, ma di origini belga, e il Buegrasso 2013. Ha circa 2 anni, 3 anni, 28 mesi di età. È circa un anno e mezzo che l'ho comprato in Belgio e l'ho levato, sì, un anno e mezzo che l'ho in azienda. È sistema di levamento o sistema sano con mangimi fatti in azienda, mais, soia, orzo. Quanto pesa? Pesa 10 quintali e 30 chili. Il destino di Gigio è già segnato. Gigio verrà venduto nel nostro negozio con molta soddisfazione e basta. E che va bene così. Abbiamo vinto, ha vinto l'agricoltura e ha vinto la macereria. Basta. Gli allevatori intendono creare più consapevolezza negli acquisti dei consumatori. Queste manifestazioni servono senz'altro per far avvicinare il consumatore al produttore. Cosa importante è che il consumatore comincia a chiedere carne nei nostri allevamenti in modo tale di avere il prodotto garantito. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie a voi per essere state in nostra compagnia. Buona domenica.